Dragaggio al palo a Molo Fornelli. Escono fango e inquinanti dalle panne che ne dovevano impedire la dispersione nelle acque del golfo, con rischi significativi per l'ambiente marino. Un blitz stamani ha posto i sigilli sul cantiere di competenza dell'autorità portuale a Molo Fornelli all'interno del porto Spezzino. Secondo le indagini, la ditta che sta eseguendo i lavori non avrebbe posto le opportune garanzie in termini di protezione dell'ambiente. Il personale del nucleo investigativo del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato della Spezia e della sezione di Polizia Marittima e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto sono intervenuti su delega dell'autorità giudiziaria con il sequestro dell'area di cantiere nello specchio d'acqua antistante il Molo Fornelli. Il provvedimento è scaturito dalle indagini che hanno evidenziato delle anomalie nei lavori realizzati dalla ditta incaricata per il dragaggio. I metodi di dragaggio autorizzati prevedono infatti l'utilizzo delle panne ancorate al fondo. Panne che in realtà, a quanto emerso dai controlli, non erano debitamente ancorate e perciò permettevano la fuoriuscita dei fanghi. Un fatto che, sottolinea il Corpo Forestale dello Stato, causa un significativo deterioramento dell'ambiente marino dovuto proprio alla dispersione, oltre che dei fanghi, anche delle sostanze inquinanti che avevano reso necessario proprio quelle operazioni di bonifica del sito, già dichiarato di interesse nazionale. Le procedure illecite sono state riscontrate più volte durante i controlli, confrontate e esaminate assieme controlli sulla qualità delle acque, tanto da rendere necessario il provvedimento cautelare che da oggi impedirà la prosecuzione dei lavori. Sul registro degli indagati intanto sono stati iscritti tre nomi e le indagini coordinate dal sostituto procuratore Luca Monteverde proseguono. Di certo con questo sequestro si riapre la discussione anche su quanto sostenuto da muscolai e ambientalisti, che avevano additato proprio nelle operazioni di dragaggio del porto Spezzino l'origine dei fanghi sospetti e contestualmente della moria di muscoli registrata nei mesi scorsi.